Buona serata, nuova edizione del TV Giornale di Telestense, edizione che apriamo in maniera anomala perché prima di aggiornarvi sui casi di coronavirus vi mostriamo delle immagini, immagini che arrivano dal cuore della città perché in occasione della conclusione della novena del Santissimo Crocifisso di San Luca, oggi a mezzogiorno i campanari ferraresi hanno suonato le campane nei campanili della città di Ferrara, del Duomo, di San Giorgio fuori le mura, di Santa Francesca Romana, di Santo Stefano e di San Francesco, un'iniziativa che ha emozionato tanti ferraresi che hanno ritrovato un po' di serenità in un momento indubbiamente difficile per tutti, queste appunto alcune delle immagini che ci hanno inviato oggi nel pomeriggio. A questo punto però partiamo subito aggiornandovi sui casi di coronavirus, sono 7.555 quelli positivi in Emilia Romagna, 850 in più rispetto a ieri, 28.022 campioni refertati con 3.402 test in più rispetto alla giornata di sabato. Questi dati accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali relativi all'andamento dell'epidemia in regione. I nuovi decessi riguardano 33 residenti nella provincia di Piacenza, 22 in quella di Parma, 10 in quella di Reggio Emilia, 12 nel Modenese, 11 in provincia di Bologna, 1 per quello che riguarda la nostra provincia, cioè quella di Ferrara, 3 in quella di Ravenna, 1 a Forlì e 7 in provincia di Rimini. Per quello che riguarda i casi di positività sul territorio, in provincia di Ferrara salgono a 150, cioè 27 in più rispetto al dato di ieri. Ma c'è una buona notizia che arriva dall'ospedale di Cona. Negli ultimi dieci giorni, infatti, 12 persone affette da coronavirus sono state dimesse. Vediamo. Negli ultimi dieci giorni sono stati dimessi dall'ospedale di Cona 12 pazienti Covid-19 positivi. Si tratta di 8 pazienti uomini di età che va dai 19 ai 67 anni e di 4 donne dai 31 ai 85 anni. Un dato che potrebbe risultare poco significativo, ma che se rapportato al numero di accessi di persone ricoverate nei reparti Covid fino ad oggi, domenica 22 marzo, ovvero 104, comprensivi anche dei residenti fuori provincia di Ferrara, assume una connotazione molto importante. Oltre il 10% dei pazienti fino ad ora ricoverati è stato dimesso, tenendo conto che il primo paziente è stato dimesso il 13 marzo e gli ultimi tre proprio ieri, sabato 21 marzo. Si tratta di persone clinicamente guarite, le cui condizioni cliniche sono state ritenute tali da non suggerire più il ricovero in ospedale. Questi pazienti dovranno rimanere in sorveglianza attiva presso il loro domicilio, in attesa del referto dei campioni che dovranno risultare negativi in due test consecutivi effettuati a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. In un momento in cui la situazione legata all'emergenza coronavirus sta mettendo a durissima prova il nostro ospedale, ha dichiarato Tiziano Carradori, direttore generale del Sant'Anna, e in cui le notizie di nuovi contagi si alternano a quelle dei decessi, vorremmo oggi lanciare un messaggio positivo. Da questa malattia si guarisce. Lo vorrei rivolgere soprattutto ai pazienti che sono ora ricoverati nei reparti Covid e alle loro famiglie, le quali non possono assistere ed essere vicine ai loro cari ed amici. Intanto da ieri è aperto il bando straordinario della Regione Emilia-Romagna per reclutare medici e infermieri da destinare subito a Parma e Piacenza, cioè nelle province più colpite dall'emergenza coronavirus. La procedura d'urgenza è rivolta sia a professionisti attualmente dipendenti del sistema sanitario nazionale, in questo caso l'incarico è subordinato all'assenso del datore di lavoro, o di altre strutture pubbliche e private, ma anche a professionisti in cerca di impiego o a specializzandi. Ricordiamo che il rapporto di lavoro sarà autonomo occasionale, libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa sulla base della durata e dell'impegno orario che sarà garantito dal candidato. Ma vi ricordo anche che tutti i dettagli li trovate sul sito della Regione. A questo punto invece entriamo nel dettaglio perché appunto parlando di medici e infermieri sono coloro che tutti quanti in questo periodo definiamo i nostri eroi e in effetti sostengono il peso dell'emergenza all'interno di un sistema sanitario che in questi anni è stato pesantemente ridimensionato. È assolutamente doveroso tutelarne la salute perché sono loro che potranno liberarci da questa pandemia. Vediamo. Oggi tutti li chiamano eroi ed hanno imparato a ringraziarli, molti dimenticandosi degli attacchi rivolti al loro operato, alla loro deontologia, alla loro onestà. Attacchi che hanno preparato il campo in questi anni al taglio di circa 40 miliardi della sanità fra il 2010 e oggi, di cui gran parte al Servizio Sanitario Nazionale, è quello che accoglie e cura tutti coloro che si presentano ai pronto soccorso in condizioni di necessità. In questi anni in Italia abbiamo avuto più dimestichezza con l'etichetta di malasanità che con il valore della quotidiana attività di medici, infermieri e quanti operano nelle strutture sanitarie. Siamo stati rincorsi dagli scandali gridati, molti dei quali presunti che ha nominato la nostra fiducia e distrutto molte identità professionali. Quando si sono rivelate infondati è stato in molti casi troppo tardi. Tagli attacchi che tuttavia, grazie alla preparazione e alla vocazione di tanti professionisti, non impediscono che il nostro sistema sanitario sia considerato ancora oggi uno dei migliori al mondo. Chissà se è finita l'emergenza, ci ricorderemo di quanto stanno facendo negli ospedali, sull'ambulanza e nei loro ambulatori, rischiando le conseguenze del mancato riposo, rischiando la salute e la loro vita privata, per fare da barriere contrastare l'epidemia che sembra aver colto tutti impreparati di ieri, l'appello della Protezione Civile Nazionale a reclutare 300 medici volontari, in molti casi per rimpiazzare quelli già contagiati. Da oggi è aperto il bando straordinario della regione Emilia Romagna per reclutare medici e infermieri da destinare subito a Parma e Piacenza le province più colpite dell'emergenza coronavirus in Emilia Romagna. Ma, mentre chiediamo a loro di andare volontari al fronte, siamo in grado di assicurare la loro incolumità, incolumità necessarie per svolgere il loro prezioso lavoro, quando sappiamo che in media per avere l'esito di un tampone oggi serve anche una settimana, ai giovani neolaureati diamo subito la sicurezza di un lavoro, li mandiamo in corsia. Non hanno, credo, le competenze necessarie, ma sono indispensabili. Carichiamo quindi i medici più esperti anche del compito di fare loro da tutor. Sono, lo abbiamo capito, le misure dell'emergenza, ma finita questa vorremmo che non si trattasse soltanto di appuntare delle medaglie sul loro petto, certamente se le meritano, ma di mettere al posto giusto ruoli, valori e competenze necessarie sia per far andare avanti il nostro Paese che per fronteggiarne le calamità. E tra la notizia di questa giornata, da oggi è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute. Lo stabilisce l'ordinanza adottata congiuntamente dal Ministero della Salute e dal Ministro dell'Interno che rimarrà efficace fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La razza è quella di evitare le fughe di persone verso sud dopo l'ulteriore stop alle attività produttive annunciato ieri al Premier Giuseppe Conte. La misura sarà contenuta nel nuovo decreto in Gazzetta Ufficiale, ma intanto sono diversi i commenti dopo l'ultimo annuncio del Premier Conte di ieri sera che ha dichiarato lo stop alle attività cosiddette non necessarie. Sentiamo tra i vari il commento del Sindaco di Cento, Fabrizio Toselli. Primo tema, ieri sera abbiamo sentito tutti il Presidente del Consiglio dei Ministri a fermare che ci sarà una chiusura di tutte le attività produttive o di quasi tutte, nel senso che ovviamente le attività che sono legate alla filiera agroalimentare o comunque agli imballaggi, a tutta una serie di attività che non si possono fermare, verranno chiuse. Ecco, quello che noi ovviamente come sindaci stiamo aspettando è questo decreto, è l'elenco rispetto alle attività che verranno chiuse o appunto le attività che rimarranno aperte e nel momento in cui avremo questo elenco ovviamente sarà nostra cura darne immediata pubblicazione sul nostro sito, sulle nostre pagine Facebook per consentire anche appunto a chi ha queste attività di poter predisporre la chiusura. Voglio aggiungere, mi collego sulla base di questo decreto che molti cittadini mi avevano contattato per dire che bisogna chiudere la VMFCA, il Sindaco deve fare un'ordinanza, allora il Sindaco non ha il potere di fare ordinanze per chiudere le attività produttive. Questa è un'emergenza che è un'emergenza nazionale e questo potere ce l'ha il Presidente del Consiglio dei Ministri, questo potere non ce l'ha neanche il Presidente della Regione ma la Regione ha altre competenze sul quale può fare ordinanze, il Sindaco può fare proposte, il Sindaco può segnalare a tal riguardo, voglio ringraziare anche il Presidente della Regione, il Presidente Bonaccini, perché nell'ordinanza che ha emesso ieri ha deciso di chiudere alla Domenica i supermercati. Ecco, questa è una battaglia, è una segnalazione che vi posso tranquillamente dire ho fatto anch'io come Sindaco al nostro Presidente, ho scritto anche una lettera a quei supermercati, quei pochi supermercati che avevano deciso di rimanere aperto sul nostro territorio alla Domenica, invitandoli a chiudere e appunto ringrazio il Presidente perché ha fatto una scelta a mio parere giusta che immagino che alcuni di voi la condividono, alcuni di voi non la condividono, ma è giusta perché va nella direzione di evitare assembramenti, va nella direzione comunque di cercare di ridurre quelli che sono i contatti. Una notizia adesso molto attesa, ebbene da domani o martedì al massimo tutte le regioni avranno mascherine per medici, operatori sanitari e malati, e a partire dalla settimana successiva contiamo di dare poi a tutti gli italiani i dispositivi di protezione individuale. A dirlo è Domenico Arcuri, commissario straordinario all'emergenza coronavirus, intervistato oggi nel programma Mezz'ora in più di Re 3. Intanto abbiamo chiesto al Professor Carlo Contini, direttore del reparto di malattie infettive dell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Anna di Ferrara, come proteggersi adeguatamente quando usciamo di casa. Sentiamo. Allora, bisogna fare una premessa. Tutti gli ambienti chiusi e spesso sovraffollati, per fortuna in questo momento non si sta verificando il sovraffollamento, rappresentano in certo senso qualcosa che facilita la propagazione del virus, soprattutto quando le persone non stanno a distanza quella che viene naturalmente detta da tutti, cioè devono essere una distanza superiore al metro. Quindi l'uso della mascherina, che noi vediamo spesso nei supermercati, è giustificato dalle persone che stanno a contatto con i clienti, quindi i cassieri e quant'altro, così come pure i farmacisti che hanno un rapporto diretto col cliente, quindi si mettono la mascherina. Però bisogna stare attenzione, perché non tutte le mascherine naturalmente svolgono questa funzione, come molti probabilmente non sanno. Le mascherine chirurgiche, per esempio, non filtrano l'aria che noi inspiriamo, mentre invece proteggono forse la persona che sta davanti a noi quando noi, per esempio, tossiamo o starnutiamo. Questo forse in questo caso può essere utile, altrimenti lo strumento più efficace sono le mascherine dotate di filtro FFP2 o FFP3. E come sapete le restrizioni legate al contrasto al coronavirus hanno provocato lo slittamento di tanti eventi, di tante iniziative, anche di natura solidale. Per esempio il 27, 28 e 29 marzo si sarebbe dovuto ottenere il tradizionale appuntamento delle uova di Pasqua dell'AIL a sostegno ovviamente dell'associazione. Causa restrizioni da coronavirus, quest'anno la vendita dell'uova avverrà online, come ci ha segnalato il presidente ferrerese di AIL, Gianmarco Duo. Esatto, modalità nuova, modalità naturalmente obbligata dalla situazione del coronavirus. Le uova, diciamo, in piazza non ci saremo, il 27, 28 e 29, però abbiamo deciso naturalmente con uno slogan, il resto a casa ma salvo la ricerca. Cioè praticamente rimanendo a casa si possono, come hai detto tu giustamente, prenotare le uova in diversi modi. Il contributo minimo come ogni anno è di 12 euro e appena finirà l'emergenza i nostri volontari sono pronti poi a consegnarveli a casa direttamente nel modo e nell'orario che naturalmente si stabilirà insieme. Con lo slogan che se anche purtroppo andremo dopo Pasqua le uova sono buone dopo Pasqua e sicuramente anche la solidarietà è l'aiuto che in questo modo non verrà a mancare ad AIL, che questa è la cosa fondamentale. Ecco, solidarietà è appunto il tema di questa telefonata perché al di là delle uova e delle colombe sicuramente una delle difficoltà di tutte le associazioni di cui appunto anche AIL rientra a far parte è quello di continuare nell'assistenza, nell'attività che portate avanti abitualmente. Come è cambiata la vostra vita, tra virgolette, in questi giorni di emergenza? Esatto, esatto. Continuare la ricerca, continuare l'aiuto ai nostri malati del reparto di ematologia, di onco-ematologia pediatrica è molto molto importante. Soprattutto anche loro fanno parte di una categoria molto a rischio anche naturalmente del coronavirus perché si trovano in una situazione naturalmente di immunodepressione dovuta naturalmente alle cure e noi in questo modo cerchiamo di dare continuità, di dare continuità alle ricerche e speranza ai nostri ammalati. Per quanto riguarda AIL abbiamo dovuto rallentare un po' gli aiuti ai nostri ammalati, soprattutto però quelli delle persone, che naturalmente dei volontari che andavano in reparto, quindi quelli naturalmente per questione di rischio non viene più effettuato, però manteniamo l'assistenza domiciliare, quindi abbiamo il medico che va a casa degli ammalati, quindi diminuendo i trasporti, diminuendo il disagio a casa dei ospital naturalmente e soprattutto anche per non congestionare l'ospedale, quindi riuscendo a curare a casa l'ammalato. Quindi abbiamo questa nostra dottoressa che va a domicilio, poi rimane lo psicologo però un po' come stiamo facendo noi attraverso Skype, sempre per naturalmente limitare i contatti che hanno naturalmente i nostri pazienti, oppure i familiari dei pazienti, perché il nostro psicologo aiuta anche i familiari. E poi rimangono, anche se un po' rallentati i trasporti, però anche quello riusciamo ancora a garantirli, quindi per diminuire sempre il disagio dei frequenti, i trasporti che devono fare i nostri ammalati, e quindi cerchiamo in questo modo attraverso la ricerca, che naturalmente in primis è il finanziamento di medici, che come tu ben sai ogni anno effettuiamo, circa 4 all'anno, tutto questo riusciamo a garantirlo sempre attraverso il buon cuore, attraverso il vostro aiuto, che chiediamo anche in questa occasione di continuarlo a fare, però mi raccomando comodamente da casa, quindi non uscite di casa, state a casa, una semplice telefonata, e noi in un elenco naturalmente segneremo tutti i nostri e le vostre richieste, che dopo poi, successivamente, riusciremo poi ad evadere e a consegnarvi a casa tutto. A proposito del rimanere a casa, vi parliamo adesso di Scene Aperte, un'iniziativa che unisce vari artisti del territorio per portare teatro e musica nelle case dei ferresi e degli italiani in generale attraverso internet. Ce ne hanno parlato Paolo Garbato, Daniela Patroncini e Marcello Cesena. Vediamo. Guarda, è un progetto molto semplice, è una pagina Facebook, cogestita per l'appunto da noi e da altre persone, quindi Eliandra Rocha, la manager di Marcello, Giorgio Ferroni, Federica Pavanelli, ed è nata durante, come idea, è nata durante una telefonata di una settimana fa, in cui ci rammaricavamo del fatto che tutti i nostri progetti imminenti per Rara Film Festival, altri spettacoli, insomma, dovessero essere momentaneamente rinviati e poi abbiamo fatto mente locale e abbiamo detto ma sì, come stiamo facendo questa telefonata, possiamo anche online continuare a fare le nostre cose, le cose che ci piacciono, le nostre passioni. E così abbiamo aperto questa pagina nella quale invitiamo tutti gli artisti ferraresi, ma anche non ferraresi, a proporre i loro lavori, sia lavori ad hoc fatti apposta per la pagina che lavori pregressi che ci possono ritrovare su YouTube o sulle loro pagine in modo così da poter avere un contenitore di intrattenimento che dia un po' di contributo a tutti quanti noi. Abbiamo cercato di raccogliere un po' la voglia degli artisti, come diceva prima Paolo, di Ferrara e dei dintorni e diciamo così, la voglia di partecipare insieme ad un intrattenimento, proprio per dare un conforto, soprattutto chi è solo, perché comunque in questo periodo molti sono con la famiglia, molti invece no, molti sono lontani dalle famiglie per svariate ragioni, molte persone sono sole, sono anziane magari e anche questo piccolo contributo può alliettare o aiutare così a sopportare questa privazione della libertà che per carità è per una buonissima causa perché è per la salute di tutti, però è pesante, può essere molto pesante. Ci saranno tanti contributi da tutte le parti del mondo e questo è bello. E poi quelli che stanno ascoltando e vogliono proporre qualcosa, per piacere, contattate tramite Facebook nella nostra pagina Scene Aperte e noi stiamo guardando e vogliamo dare opportunità a tutti di condividere questi doni, perché uno che è un artista, un musicista, un compositore, un attore, non riesce a vivere senza condividere qualcosa di bello e i limiti di stare a casa non è un limite, noi usiamo la nostra creatività per fare questa condivisione. Infatti il primo giorno che abbiamo fatto il concerto c'erano 1300-1500 persone collegate con noi, vuol dire che anche stando a casa possiamo fare questa bellissima esperienza di condivisione che è proprio tipico dell'italiano. Prima di chiudere vi ricordiamo la nuova iniziativa che vede insieme l'Ilt Ferrara e Telestense che hanno attivato fino al 3 aprile una raccolta fondi pubblica per l'acquisto di saturimetri per la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue e altro materiale medico, il tutto destinati al reparto d'agenza dell'unità operativa complessa di malattie infettive Covid-19 dell'ospedale Sant'Anna di Coda. Questo è appunto il codice IBAN, poi tutti i dettagli li trovate sul sito telestense.it. E oltre al nostro sito vi ricordo anche le nostre pagine web, sui social, siamo presenti su Facebook, su Twitter e su YouTube dove potete anche rivedere integramente il nostro TV giornale. Grazie per averci seguito, come sempre l'appuntamento è rinnovato alla prossima edizione. Grazie per aver guardato il video,